E' il mio amico, vado a vedere tutti i altanti, tutti i sposi, ripeto da noi ci chiediamo di sirnoli, chi non canta significa che non si sava mangiare, dai tutti i miei, signori, mano destra in alto, dai tutti a saldare con la mano destra, signori in mano sinistra, signori senza mani, come senza mani ragazzi, e' il mio amico, vado a vedere tutti i nostri amici, e' il mio amico, va bene, allora signori, il mio amico, vado a vedere tutti i nostri amici, Allora uno, due, aspetta, ascolta, aspettate, forza un'arma, attenzione, vai, regola, sei pronta? Signori, mi raccomando forte, uno, due, tre, schiacciate! Fatevi vedere, signori, fatevi vedere. Oh, io li vedo correntati, ho detto che il viaggio di notte non ce lo devono fare, e noi dobbiamo schiacciare, uno, due, tre, schiacciate! E adesso mettiamoci tutti in fila con la nostra Francesca. Grazie! Good!